ciao a tutti amici benvenuti su Ezio Firewall 4 oggi siamo con il nostro meccartoon e devo darvi delle notizie perché è successo una cosa ad oggi che sto registrando voi non lo sapete però giustamente la serie è pre registrata nonostante io tengo comunque considerazione dei vasti commenti quando ci sono ovviamente oggi che sono registrata il 6 giugno in 10 ci sarà una nuova versione di Ezio Firewall 4 probabilmente molto probabilmente o almeno ci sarà la data che uscirà ma non ho capito bene però da quando capito ci sarà una nuova versione questa nuova versione andrà a sminchiare tutto quindi se riuscirò ad avere questa versione di Ezio Firewall ok posso continuare ma se poi non riesco a tornare a questa versione non riesco a giocare con questa mod e con questo salvaggia la serie dovrà subire una brutta battuta dal resto e quindi finisce la cosa importante è la sconfiggere questa montagna chapter che ce ne abbiamo fatta quindi va bene così quindi continuiamo continuiamo la nostra avventura cercando di cercherò di registrare più episodi possibili votare da dove ne può evitare abbastanza tranquillamente e quindi vivere tranquillamente vabbè quindi ci arriva un aiuto che sarebbe un agente speciale speciale johnson con due rapid response o nell'esercito dell'entrata cosa che cosa è che western and scouts non come imparo almeno 5 per cento è un dito in cura intanto facciamo first time in investment che ci dà pure un più 5 per cento di nx e io faccio this job course for professionals anche se non l'avei fatto davanti che è attaccato da morza 90 e sta diventando ben forte lo stesso aveva fatto bypassato quello che pezzo di merda ma va bene o americana da condostale comune strani rock contro il barone attenzione guerre tutta attorno c'è il panico siamo tra l'incudine e il martello ok qua adesso c'è una scelta da fare che è quella di praticamente andare tra no concept defense oppure the wings of liberty che quello che farei perché voglio diventare per bene e quindi valdi wings of liberty attenzione ragazzi perché in canale è stato sarebbe tornare la nostra divisione di carri armati signori è pronta che aspetta c'è una protetta america ne so si diventiamo praticamente penso autarchici perché dice self sa sa sufficiente society quindi una società che si sostiene da su mai si sostenta da c'è una t45 anche se lo poterà x01 mettiamo mettiamo in allenamento questi soldati che avranno bisogno di soldati per una battaglia tu c'è bisogno di una medaglia e quando me lo dici mai a dobbiamo pulgare non lo sapevo closing ranks stiamo diventando manclare però non pensavo di pulgare gli stronzi cioè non me ne aspettavo perché c'è peccato tipo questa è una cosa che io non farei perché sono quelli diventando manclare tutte vabbè però è una cosa che non è che conviene tantissimo degustibus chi sono io per dire di occhi come si venghiamo dopo un ca tutti quanti facciamolo che sarà un po di roba mi ha puntato tutti nessun posto che non trova perché poi rotti i coglioni a verano che oddio illuminators impazziti no assurdo questo non me l'aspettavo minimamente incredibile ancora c'è un meccanone io vai benissimo meccanone io vi immagino quelli con armatura atomica su meccanone si spacca appena arte arte ragazzi arte dobbiamo espandereci sul punto di vista navale facciamo emergency shipments allora noi in tutto ciò no come rnc pure gnollino se c'hai fatto un'aggressione sons of kaga in guerra con tu come in guerra con tutti cos'è il tobbino questo ma che cazzo è questo vabbè dai qui caga non raggiungerà mai all'uglio mi sono spettacolo last ditch reinforcements è arrivato io potrei farne the last command per andare qui con gli internet io non ci voglio andare non mi interessa io voglio andare di qua e quindi the mong knight queste ne portiamo dove le portiamo mettiamola da questo che cazzo che è desert dai mio che hanno vinto i conti white knicks i coglioni ma in tutto ciò ma siete ancora in guerra effettivamente ma quindi che succede è avanzato di niente guardamma di chi è il regno che che sa tutto ciò non c'è ancora chi si è vincito oddio impazzito guarda 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 eccoci meccato verrà riconosciuto come montana in clave in clave sarà domenio party l'agente speciale johnson sarà al comando e santiago verranno uccisi per per il tenimento eccoci qua guardate che rispetta l'agente speciale johnson che anche il comando lei è viva però martha santiago è viva mettiamo comando in doppia di servo perfetto facciamo subito questo ma non ci voglio credere ma ti pare che c'era il momento della guerra civile adesso c'è un attimo sta guerra civile penso che la facciamo con voce l'agente penso proprio di sì bene continuiamo come ho detto molto poco po' the red deer remnants infatti dico voi mi avete dato le armi alla fine io vi voglio come a me allora dobbiamo vedere dove attaccare quindi Washington e commission va qui e ci fa andare contro contro una brotherhood che stava a siattone qua ci fa andare contro gli stampede ed è come che vorrei fare a questo punto sono già in guerra sono già in guerra e qui invece ci fa andare contro for father's vabbè standing rock quindi io vado di the canadian occupation e ci prendiamo il vergono di great stampede interno delle great stampede noi attacchiamo muoviamoci così li facciamo capito subito qua non c'hanno nessuno nessuno si sarebbe aspettato questo mi sa ok continuiamo qua dobbiamo fare assolutamente il settore in avanti bene io voglio questo dai su infatti non cava dividiamoci dividiamoci tutto dai dai su dividiamoci tutto eh bisogna fare forza così va bene dai va bene va bene new american combo world c'è un boom bene perchè mi odi? vabbè ho capito anche meno sono un poche palle vabbè che ti attacco eh ah no potete fare un aggressivo beh niente bene bene gristable che dov'è? che non ce l'ho? non ci credo quindi siamo fermi va bene va bene ho sbagliato vabbè invadendo noi potremmo attaccare qua però saremo troppo esposti ok vertibald in più facciamo questo questi qua li attaccheremo eh per prenderci tutto direttamente ho sbagliato a fare sta cosa venga 500 venga 500 armi in più acá sta guardando adesso vabbè va bene ragazzi il video finisce qua spero che il video vi sia piaciuto nel caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace commentate prossimo episodio probabilmente attaccheremo middle mark grazie per la visione ciao ragazzi